buongiorno amici caravan langer allora oggi camper diverso rispetto a la marea di mansardati vediamo un piccolino un piccolo rimor sailor eccolo qua vedete alle mie spalle ma lo vediamo meglio insieme all'interno piccolo camperino è un rimor sailor 600 del 2003 profilato ed è uno di quei camper che consiglierei assolutamente alle coppie o alle persone comunque da solo quindi 12 persone massimo perché perché un mezzo compatto perché un 6 metri 20 quindi una praticamente come se fosse un van 20 centimetri in più più di un classico van furgonato però a differenza di appunto un furgonato dovuto anche alla larghezza di due metri e venti rispetto che un furgonato che 2 metri 0 5 questo è proprio come se fosse una piccola casetta perché c'è un letto comodo facile da alzarsi da salire senza dover per forza arrampicarsi su mansarda a una bella dinette spaziosa a una con bella con una bella cucina quindi proprio una piccola un piccolo alloggetto per le vostre vacanze in the road alcuni dati tecnici allora è un camper con profilato con un letto alla francese basso e immatricolato a maggio del 2003 meccanica ford 2004 125 cavalli sei posti omologati e quattro posti letto le misure sono una lunghezza 6 metri 24 per 2 metri 22 di larghezza come al solito è dato con un anno di garanzia di con un anno di garanzia di conformità e tagliandato revisionato l'ansia revisione è stata fatta a giugno 2019 quindi è fresco di revisione inoltre come accessori inclusi alla veranda pannello solare portabici pietini stazionamento e il turbo vent che il ventilatore 12 volt non ha il clima cabina ricordo solitamente nei camper è più facile trovare clima cabina in veicoli più recenti dal circa dal 2006 2007 in poi solitamente coincidono con il nuovo ducato c'è il nuovo ducato ducato quello che è venuto dal fine 2006 2007 in poi comunque vediamolo meglio all'interno eccoci qua qui troviamo la dinette la dinette una dinetta 4 quindi è omologato quattro posti cioè sei posti viaggio però comunque anche a un pranzo se siete via volendo state anche qualche persona in più magari mettendo uno sgabello qua nel corridoio comunque guardate anche la quantità di mobiletti questi sulla dinette davanti sul cupolino quindi davvero in una dimensione veramente ridotta avete praticamente tutto qua volendo diventa tra parentesi anche un altro letto è anche più facile da fare a basse semplicemente e via sulla sinistra troviamo il blocco cucina piccolino ma con tutto infatti troviamo due fuochi ben ben separati il lavandino questa finestra questa finestra è meravigliosa perché posso tenerla aperta anche viaggiando senza rischiare che mi porti via il tutto troviamo la k la k aspirante la presa di una presa 12 12 volt e la luce in cucina un bel mobile sopra è un mobiletto più piccino qua sotto insieme al frigo il frigo è un frigo trivalente che quindi va sia gas sia batteria oppure 12 volte anche la sua celletta frigo più piccolina rispetto a dagli altri veicoli più grandi però per due persone comunque di spazio ce n'è parecchio poi troviamo la stufa la stufa un riscaldamento a gas classico una truma un armadio bellissimo e gigante volendo se non volete avere i ripiani si può anche ripristinare la la barra che qui c'era la barra una volta si può tranquillamente fare la parte posteriore con un belletto alla francese con due belle finestre la cosa che mi è sempre piaciuta del letto alla francese e proprio la luminosità sia la comodità dell'avere comunque un letto che non è difficile non è difficile da salire ma è comunque un belletto belletto comodo ma le finestre qua sembra proprio una camera una camera classica una luminosità incredibile poi soprattutto qui ci sono le due finestre e lo blu qui in basso troviamo l'accesso come avete visto dalla dal video esterno a un bel diciamo un bel vanetto sotto al letto dal letto passiamo invece al bagno guardate che meraviglia di bagno a un bagno con una doccia separata la propria porticina però guardate comunque è un bagno bello spazioso anche la doccia è una bella doccia spaziosa quindi con le dimensioni ridotte di un van o proprio un camper a tutti gli effetti qui troviamo due mobiletti belli anche qua per lo stivaggio delle cose del bagno una bella finestra con lo blu quindi penso che a questo camper non manchi proprio nulla allora cosa ne pensate di questo piccolo camperino con perfetto ci viene proprio una voglia di prendere e partire per un bellissimo viaggio con su strada magari un bel giro in bretagna normandia o quei viaggi l'importante è andare importante iniziare il viaggio poi la meta si deciderà viaggiando comunque allora vi lascio come al solito il nostro sito dove troverete oltre che nell'info box che avete qua sotto troverete tutti i vari dettagli quelli che mi ho detto un po rapidamente nel video ma troverete anche le varie offerte al momento è un veicolo che in offerta 19 e 5 quindi correte ultimamente soprattutto grazie a questi video che infatti vi ringrazio sempre tantissimo perché grazie alle vostre condivisioni tanti dei nostri usati hanno trovato dei proprietari quindi sono partiti per fare tanti chilometri insieme quindi questo ci rende molto orgogliosi comunque se vi è piaciuto il video mettetevi mi piace condividete venitelo a vedere ovviamente siamo molto conservo molto contenti di farvi vedere di persona a tutti i nostri usati che anche qui trovate tutta la lista sul nostro sito e se avete bisogno scrivetemi anche su whatsapp vi lascio anche il nostro contatto whatsapp dell'azienda su facebook instagram seguitemi ovunque siamo ormai ovunque altra cosa importante iscrivetevi al nostro canale così riceverete la notifica quando usciranno i nuovi video su veicoli nuovi usate adesso dovrei ritornare a fare anche qualche video per farvi vedere gli ultimi arrivi dei veicoli nuovi bene bellissimi like a cosmo ci sono diversi nuovi modelli arrivati molto interessanti quindi iscrivetevi al nostro canale qui sotto se vi aspetto quindi alla prossima ciao a tutti buona giornata